Sì, è stato il modo perfetto per finire l'anno? Sì, credo che era il miglior modo per finire l'anno. Sono davvero orgoglioso per i ultimi 10 minuti, non per i primi 80 minuti, perché è troppo facile, non? Parlare sui primi 80 minuti, ma sono davvero orgoglioso per i ultimi 10 minuti. Quando stavamo affermando molto, quando abbiamo fatto un errore nel primo gol che abbiamo conceduto, perché dobbiamo accettare, perché dobbiamo sapere dove vogliamo andare, dobbiamo sapere chi siamo. Sì, e abbiamo giocato un grande gioco, perché abbiamo mostrato un coraggio incredibile, per difendere l'anno per i ultimi 90 minuti. e per giocare con quel coraggio, quel qualità, quel stile, tecnologie. e per questo, mi sono scoperto perché abbiamo conceduto due golvi, mi sono scoperto perché non abbiamo fatto una scoperta, ma dobbiamo accettare perché siamo Brighton, e Brighton può giocare 80 minuti come la prima parte del gioco, e il stesso Brighton può soffrire molto per i ultimi 10 minuti. Ci erano alcuni momenti nel gioco, ma cosa sull'estupiname? È incredibile. È incredibile il gioco, ma la più importante cosa sull'estupiname è che abbiamo recuperato un gioco importante, perché stiamo perdendo molti giocatori per i ulteriori e abbiamo bisogno di più di qualcuno, perché non possiamo giocare con 10 o 9 giocatori. Finalmente, Gian Pedro, 13 golvi per la season, in all football, due golvi oggi e un assist, quanto importante è il gioco? È il miglior gioco sul gioco, credo. Oggi ha giocato un altro gioco incredibile. e sono davvero piaciuto per il suo miglioramento sull'attitudine, 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 sull'attitudine. È incredibile perché ha giocato 90 minuti come un centro-back in termini di mentalità, e per questo è diventato un gioco, credo, un gioco miglior. spero nel prossimo anno di lavorare con lui, ma credo che sarà molto difficile. credo che sia un buon gioco, ma non per esprimere questa performance. posso esprimere questa performance parlando di qualità dei miei giocatori, qualità come persone, e qualità come giocatori, fantastici giocatori. credo che sono davvero fortunato di essere il gioco. e qualità come giocatori. perché spero che sia meno di quattro. ma i miei giocatori mi hanno detto 4-6 settimane, e ho lavorato per Brighton, non per il Giappone, non posso dire nulla per il Giappone. spero per voi, se Cariù può giocare in ASEAN CUP, ma non so. non so. Sì, Roberto, credo che il plan non era per giocare a Pervis per 45 minuti, era Igor injurato? o era sempre il plan? No, no, no. Igor e Facundo Bonanotte soffrono un injurio, non so se è importante per il prossimo gioco in Stadion West Ham ma Igor non potrebbe giocare nella seconda parte. Hai saputo la natura? Quali parti? Tendino. Tendino. Facundo? Muscolare. Muscolare. potresti spiegare cosa stavano pensare con il fatto che non avevano nessun gioco, una volta che hai perduto Mitomo e Odinga e ad gestire per questo. Hai giocato a James Milner con l'altra parte, non? Joao Pedro e Facundo avevano tre parti. Sì. No, abbiamo giocato tre parti in fronte, due centrali a Togli a Togli a Togli a Togli a Togli a Togli e Togli a Togli a Togli e a Togli e la Togli cambiati perché bisogna qualcosa di diverso. Ho detto Come ho detto a la conferenza di press, mi piacciono molto, e mi devo essere orgoglioso, perché sto lavorando più difficile da la prima parte della settimana, perché ora dobbiamo trovare soluzioni diversi, e per trovare soluzioni diversi, dobbiamo lavorare più difficile e pensare meglio e più, e prendere qualche rischio, perché a volte è difficile preparare un gioco in diversa settimana.